Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Bentornati nella nostra rubrica di bioetica. In questi giorni si è sentito parlare della cosiddetta maternità solidale. L'associazione Luca Coscioni ha presentato a metà giugno durante un convegno una proposta di legge che renderebbe legale la maternità surrogata senza compenso, per questo denominata solidale. Ricordo che insieme ad altre associazioni la cosa è riemersa anche recentemente con il solito metodo tipico, cioè quello di fare leva sui casi pietosi. Quindi se andate appunto sul sito dell'associazione vedete alcuni racconti di alcune donne italiane che solitamente sono donne con problemi uterini evidentemente che rendono quindi impossibile la loro gestazione come tra tutte la sindrome di Mayer-Rozinski-Caster. Appunto dicevo il solito metodo dei casi pietosi ma con un'inconsistenza di contenuto peraltro. E' interessante anche l'insistenza che viene fatta appunto pur di promuovere questa maternità surrogata, in questo caso non a pagamento ma appunto su via come dire volontaria, solidale, gratuita. Ecco, si insiste molto senza tenere minimamente conto ovviamente delle conseguenze che questo può avere non solo sul bambino, non è una novità ecco che il fronte radicale non ne tenga conto, ma anche sulla donna stessa che poi porterà avanti la gestazione. La cosa interessante è che in realtà nella proposta però si fa riferimento non solo al pagamento delle spese per la gravidanza, ma anche alla presenza dello psicologo. Quindi vedete c'è una stranezza, da un lato non si tiene conto delle conseguenze che può avere, portare a termine una gravidanza nel proprio grembo e poi dover lasciare il bambino ai genitori committenti, ma comunque si prende in considerazione la presenza di uno psicologo. Ebbene, in questa puntata cerchiamo di intanto rivedere che cos'è la maternità surrogata, che sia gratis o a pagamento, ma soprattutto vorrei poi riflettere sull'utilizzo dei termini, in questo caso del termine solidale. Ricordo intanto che la pratica della maternità surrogata è cominciata negli Stati Uniti nel 1979, l'anno dopo la nascita della prima bimba in provetta. E' interessante che le due cose furono molto ravvicinate. E' chiaro che da lì poi è partito un vero e proprio mercato, quella che in altre occasioni abbiamo chiamato l'industria dell'infertilità, con tra l'altro anche una caratteristica peculiare, da un lato clienti benestanti, per lo più occidentali, eterosessuali o omosessuali, coppie o single, dall'altro donne di paesi poveri reclutate da intermediari, dove per intermediari intendo vere e proprie agenzie che si occupano di questo e che con una certa regolarità organizzano delle vere e proprie fiere, ne abbiamo parlato in alcune puntate precedenti. Chiaramente da lì dicevo è partito un giro d'affari enorme che tra l'altro ricorre a qualsiasi mezzo per eliminare gli imprevisti al momento della consegna del figlio prodotto ai genitori committenti. Sappiamo che esiste l'utero in affitto appunto tradizionale che è quello che viene chiamato traditional gestational carrier in cui è la gestante che fornisce i propri ovociti che poi saranno fecondati dal futuro padre o eventualmente da un altro donatore. In questo caso la surrogata è anche la madre biologica del nascituro anche se diciamo che questa forma tra virgolette tradizionale non è quella più ricercata perché si cerca invece a tutti i costi di separare la madre biologica da quella gestativa perché chiaramente il rischio è quello poi che la madre gestativa ci ripensi essendo anche la madre biologica allora potrebbe chiaramente voler tenere il bambino. L'utero in affitto o comunque la maternità gestazionale non tradizionale è quella in cui appunto dicevo l'ovocità proviene dalla madre committente o comunque da una donatrice che non è però la madre gestativa. L'embrione poi viene posto nell'utero della surrogata che ripeto non ha fornito i propri ovuli e questo appunto per recidere ogni legame genetico tra nascituro e gestante. Chiaramente poi questo si correda di una serie di contratti molto accurati per cui la gestante in qualche modo non può rivolere per sé il bambino sebbene poi sempre con questa spinta legata all'emotivismo ci sono anche narrazioni secondo le quali invece surrogate genitori cioè gli altri, i committenti formerebbero una grande famiglia e non è la prima volta che la maternità surrogata peraltro viene proposta come un gesto umanitario pensate che è stato abbiamo visto come nella piattaforma Open Democracy si proponeva in tempo di pandemia la piena maternità surrogata come appunto come gesto umanitario solo che questa proposta si sta avvicinando sempre di più anche a noi non solo ad opera dei radicali ma bisogna anche segnalare che addirittura nell'ambito della puoricoltura dell'ostetricia non c'è questo rifiuto così fermo come c'è invece e lo ritengo coerente se non altro in alcuni ambienti femministi nei confronti appunto della maternità surrogata se un rifiuto c'è spesso c'è per la pratica economica che renderebbe alcune donne delle bio schiave proprio perché si riducono ad affittare il loro utere quindi con uno sfruttamento è una mercificazione del corpo femminile da questo punto di vista ma non della pratica in sé e questo è paradossale in un tempo come il nostro in cui peraltro ci sono numerosissime scoperte scientifiche legate alla vita prenatale che già abbiamo trattato in altre puntate che mostrano come il legame materno-fetale non solo sorga precocissimamente addirittura c'è un cross talk che è legato che riguarda la fase addirittura preimpianto ma comunque sappiamo bene che c'è questo legame materno-fetale che prosegue per tutta la gravidanza motivo per cui sempre per le diciamo gli studi scientifici anche sulla psicologia del bambino del benessere neonatale molti ospedali adottano con l'aiuto delle ostetriche una come dire puntano a una nascita che sia il più fisiologico possibile e soprattutto a un ricongiungimento precocissimo già in sala parto in sala operatoria con il neonato il neonato viene subito attaccato al seno si ritiene auspicabile il fatto di ricongiungere immediatamente il neonato dopo la nascita anche per questo grande shock che in qualche modo è la nascita con la madre in particolare con il seno materno e quindi con il suo latte fatto di sapori di odori che il bambino già conosce perché li ha conosciuti in utero ebbene quindi da un lato questa grande spinta per una attenzione molto minuziosa dei primissimi momenti post natali dall'altro quasi un un approccio al fatto che il bambino dovrà superare questo trauma di separazione dall'ambiente che lo ha accudito per nove mesi come un quasi vabbè se ne farà una ragione no capite i paradossi e il paradosso dei paradossi è appunto l'utilizzo della parola solidale andando proprio al cuore no del concetto di solidarietà noi possiamo considerarlo sotto due aspetti che sono credo complementari uno è quello di principio sociale no cioè il fatto che la solidarietà come dire ha proprio un valore di principio sociale ordinatore delle istituzioni questo è un po' il concetto potremmo dire macroscopico no l'applicazione sociale del principio ma poi c'è una solidarietà vista sotto l'aspetto della virtù morale sì perché la solidarietà è una vera e propria virtù cioè non è un sentimento di compassione di intenerimento per i mali delle altre persone e questo ce lo dice anche il compendio della dottrina sociale della chiesa la solidarietà è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune cioè per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti quest'ultima frase presa dalla sollecitudo rei socialis di giovanni paolo secondo e ma qui non ci si prende evidentemente cura e pensiero di tutti ma solo di alcuni perché come è evidente nella pratica della cosetta maternità solidale non si parla mai del bambino di quello che proverà di quello che penserà di come potrà essere per lui nonostante lo ripeto numerosi studi scientifici a riguardo allora vedete che c'è ancora una volta l'utilizzo di una semantica aberrante che spinge sull'emotività delle persone ma che non corrisponde al dato di realtà e quindi di verità io mi fermo qui vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata del nostro diario di bioetica oggi c'è radio romalibera punto org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera punto org per saperne di più per saperne di più